Tra i comuni non capoluogo di provincia in Abruzzo sicuramente la sfida più interessante è quella per la conquista del comune di Avezzano, commissariato da oltre un anno dopo la prematura caduta del sindaco di centrodestra, ora in Forza Italia, Gabriele De Angelis. Anche nella città marsicana come a Chieti il centrodestra corre diviso. La Lega infatti ha indicato quale candidato il suo segretario provinciale, il quarantenne imprenditore Tiziano Genovesi, appoggiato da cinque liste. Lega per l'appunto, Fratelli d'Italia, Udc, Cambiamo il futuro e la lista del sindaco. Ma il nome di Genovesi non è riuscito a riunire intorno a sé tutte le anime di destra, così Forza Italia, con la regia del sindaco uscente De Angelis, ha scelto un'altra strada, quella della candidatura della docente presidente di Aciam, Anna Maria Taccone, che sarà sostenuta da quattro liste, tre civiche e appunto Forza Italia. Sempre nel centrodestra l'outsider è Antonio Del Boccio, ex Fratelli d'Italia, ufficiale della Polizia provinciale, che corre con le liste civiche Civiltà Italiana e Io per Avezzano. Torna a correre per Palazzo di Città anche Gianni Di Pangrazio, con una proposta civica che guarda sia a destra che a sinistra. Già sindaco di Avezzano dal 2012 al 2017, cerca nuovamente la scalata, la fascia tricolore, dopo essere stato sconfitto proprio da De Angelis nelle elezioni del 2017. Gianni Di Pangrazio, fratello dell'ex presidente del Consiglio regionale Giuseppe, sarà sostenuto da ben otto liste, con numerosi ex amministratori ma anche esponenti del mondo delle professioni. Si tratta di Avezzano Città Territorio, Avezzano Libera, Uniti per Avezzano, Riformisti per Avezzano, Azione Civica per Avezzano, Io Sto con Avezzano, Patto per la Marsica e Avezzano al centro. Ma per la corsa a sindaco c'è anche l'ex consigliere comunale, nella maggioranza di Di Pangrazio e poi all'opposizione Mario Babbo. Avvocato e regbista tenterà la vittoria alla guida di ben sei liste, prime delle quali il Partito Democratico e la Carenziana, Avezzano Viva, più quattro civiche. Infine c'è il docente Nicola Stornelli, che guiderà la lista Avezzano Bene Comune, ispirata da Rifondazione Comunista e Potere al Popolo. La terza città al voto, in ordine di importanza, in base alla popolazione residente, è sempre nella Marsica, si tratta di Celano. Oltre ai 10.000 abitanti è governata da 20 anni dal centrodestra, è feudo dell'ex parlamentare, prima in Forza Italia, poi nel PDL e poi passato all'NCD, Filippo Piccone. Il sindaco uscente Settimio Santilli tenterà di ricevere il suo secondo mandato, appoggiato da Lega Forza Italia e lista cambiamo. Se la dovrà vedere con Giosualdo Ranalletta, imprenditore del settore del Contact Center, alla testa di una coalizione civica che sarà appoggiata anche dal centro-sinistra e da dissidenti della Lega che non hanno gradito la ricandidatura di Santilli. Spostandoci in provincia di Chieti, la sfida più pesante è quella a Guardia Grele, circa 9.000 abitanti. Sarà una corsa a tre, tra il primo cittadino uscente, Simone Dal Pozzo, avvocato di 46 anni, di area di centro-sinistra, a capo della lista Guardia Grele, il bene in comune, Donatello Di Prinzio, geometra di 52 anni, consigliere comunale di area di centrodestra e Gianna Di Crescenzo, con la lista Guardia Grele per tutti. In provincia di Teramo la sfida più attesa è quella di Montori Alvomano, comune con oltre 8.000 abitanti, che torna al voto anticipato a causa della rovinosa caduta a maggio del sindaco di area di centrodestra, Ennio Facciolini. A candidarsi è Eleonora Magno, appoggiata dal Partito Democratico, dal Partito Socialista e dai progressisti. Nel campo del centrosinistra pesca anche la civica di Alessandro Di Giambattista, ex sindaco. Il centrodestra, a sorpresa, si ricompatta dietro l'ex assessore della regione Lombardia, Fabio Altitonante, che ha deciso di essere della partita nel suo paese di origine.